Oggi è una giornata importantissima per la Mediterranea perché diamo un riconoscimento ai nostri migliori studenti, a coloro che hanno deciso di investire tre anni di attività dopo la laurea in un percorso che è un percorso difficile, che è quello di dottorato di ricerca. Questo è il significato di oggi, un grazie che la Mediterranea dà ai propri migliori ragazzi. Abbiamo anche, e il Magnifico ha voluto giustamente coinvolgere le scuole, le scuole superiori per far capire al nostro territorio che la Mediterranea può offrir loro tutto ciò di cui hanno bisogno farli laureare ma portarli anche ai livelli massimi dell'istruzione universitaria rappresentati appunto dal dottorato di ricerca. Consiglio a tutti questo bellissimo percorso. Io ho realizzato una testa in diritto penale, la tutela penale dei beni culturali a livello nazionale e internazionale. È stata importante anche tanto l'attività didattica svolta durante questi anni, quindi di vicinanza ai ragazzi, nonché di ricerca anche al di fuori di questa sede universitaria. Oggi la cerimonia è stata un momento molto importante per la nostra comunità, quindi un percorso sia professionale importante che umano di vita.